a un pover uomo morì la moglie giovane e lui restò con una bella bambina di nome rosina ma lui dovendo lavorare non poteva badarla perciò si scelse un'altra donna come seconda sposa e anche da questa seconda ebbe una bambina chiamata assunta che venne su bruttina i bambini crebbero assieme andavano assieme a scuola e in giro e ogni volta l'assunta tornava a casa piena d'astio mamma diceva suo padre io con la rosina non voglio uscire più la gente che ci incontra fa tanti complimenti a lei dice che è bella che è rosata che è garbata e a me dice che sono nera come un tizio di carbone che cosa ti importa se sei mora le rispondeva la madre nasci da me che sono un po' scura di carnagione è quella la tua bellezza pensatele come volete mamma replicava l'assunta io a ogni modo con la rosina non ci esco più vedendo sua figlia struggersi per l'invidia la madre che per lei avrebbe dato gli occhi le disse ma che cosa posso fare e l'assunta mandatele a pascolare le vacche e datele una libra di canaba da filare se torna alla sera con le vacche affamate senza la canaba filata per bene picchiatela picchia oggi e picchia domani diventerà brutta benché un po' a malincuore la matrigna si piegò ai capricci della figlia e chiamata la rosina le disse tu con l'assunta non occorre che ci vai più andrai a badare alle vacche e a fargli l'erba e intanto filerai anche questa libra di canaba se torni a casa la sera senza che la canaba sia filata e senza che le vacche siano satolle ti farò vedere io fatti chiari amici cari la rosina che non era abituata a sentirsi comandare con quel tono restò ammutolita dallo stupore ma poiché la matrigna aveva già preso un bastone in mano non le restò che ubbidire andò nei campi con le vacche con la rocca piena di canaba e per strada ripeteva vacchine mie come farò a secarvi l'erba se ho da filare tutta questa roccata di canaba qualcuna bisognerà che ci rimetta a queste parole una delle vacche più vecchie voltò il muso e le disse non sgomentarti rosina tu falciaci l'erba e noi ti fileremo e ammatasseremo tutta la canaba basta che tu dica vacchina vacchina con la bocca fila fila con le corna annaspa annaspa fammi presto la matassa quando la rosina ritornò a buio riportò le vacche nella stalla ben pasciute e in testa aveva un bel fastello d'erba e sotto il brazzo una matassa da una libra di canaba filata assunta a quella vista la rabbia se la mangiava viva disse alla madre domani mandatela di nuovo con le vacche ma di canaba date le due libre e se non la fila tutta legnate ma anche stavolta bastò che la rosina dicesse vacchina vacchina con la bocca fila fila con le corna annaspa annaspa fammi presto la matassa e la sera le vacche erano satolle il fastello dell'erba raccolto e le due libra di canaba filate e ammatassate ma come fai? le chiese l'assunta verde di bile a far tutte queste cose in una giornata cosa vuoi? le disse la rosina si incontrano sempre delle buone creature mi hanno aiutato le mie vacchine l'assunta corse subito dalla madre madre domani la rosina tenetela in casa a far le faccende e con le vacche ci vado io e datemi pure la canaba da filare sua madre l'accontentò e l'assunta andò con le vacche teneva una bacchetta in mano e per farle andare avanti giù botte sul groppone e sulla coda arrivata al prato mise la canaba sulle corna delle vacche e quelle ferme avanti perché non filate? gridava l'assunta e giù botte con la sua bacchetta le vacche incominciarono a rigirare le corna e fecero arruffare tutta la canaba tanto che diventò un batuffolo di stoppa l'assunta non si poteva dar pace e un giorno disse alla madre mamma ho voglia di mangiare raperonzoli stasera mandate la rosina a coglierli nel campo di quel contadino sua madre per contentarla comandò alla rosina ad andare a cogliere i raperonzoli da quel contadino come? come? fa la rosina volete che vada a rubare? ma queste sono cose che io non ho mai fatte senza contare che il contadino se vede qualcuno che gli entra nel campo così di notte mi spara dalla finestra era proprio quello che sperava l'assunta e le disse perché ora aveva preso a comandarla anche lei sì sì devi andare se no sono legnate così la rosina si mise ad andare per la notte e scavalcò la siepe entrò nel campo del contadino e invece dei raperonzoli trovò una rapa si attaccò alla rapa per sradicarla e tira tira finalmente la strappò via e scoperse un nido di rospi che era lì sotto con cinque rospette piccine piccine oh che carine fece e le prese in grembo facendo loro un mucchio di moine ma una le cascò in terra e si ruppe uno zampino oh scusami rospicina non l'ho fatto apposta disse le quattro rospette che aveva fatto accomodare in grembo vedendola così gentile dissero bella ragazza tu sei gentile vogliamo ricompensarti che tu diventi la più bella del mondo e splenda quanto il sole anche quando è nuvolo e così sia ma la rospetta azzoppata brontolò io no che non la trovo tanto gentile a me ma azzoppata poteva star più attenta che appena vede un raggio di sole si trasformi in una serpe e non possa mai tornare donna se non entrerà in un forno infuocato la rosina tornò in casa mezzo allegra e mezzo spaventata e intorno a lei nella notte ci si vedeva come di giorno perché la sua bellezza mandava una gran luce la matrigna e la sorellastra quando la videro ancora tanto imbellita da splendere come il sole rimasero a bocca aperta e lei raccontò loro tutto quel che le era successo nel campo dei raperonzoli di tutto questo io non ho colpa concluse fatemi almeno la carità di non mandarmi al sole se no divento serpe da allora in poi rosina non usciva mai di casa quando c'era il sole ma solo dopo il tramonto o quando il cielo era nuvoloso e passava le giornate alla finestra in ombra lavorando e cantando da quella finestra si partiva un gran chiarore che si vedeva tutto intorno un giorno passò per la strada il figlio del re e a quel gran chiarore alzò gli occhi e la vide chi può essere una tal bellezza in una cappannuccia da contadini ed entrò in casa così si conobbero e la rosina gli raccontò tutta la sua storia e la maledizione che le pesava sul capo il figlio del re disse a me di quel che potrà succedere non mi importa voi siete troppo bella per stare in questa cappannuccia ho deliberato che diventiate la mia sposa intervenne la madre maestà faccia attenzione lei si mette in un impiccio rifletta un po' sul fatto che la prima volta che la tocca un raggio di sole diventa serpe questi non sono affari vostri gli disse il re mi pare che voi a questa ragazza le vogliate male ma io vi comando di mandarmela a palazzo io farò venire una carrozza tutta chiusa perché per la strada non la tocchi il sole per voi d'ora in avanti i quattrini non vi mancheranno certo arrivederci e siamo intesi la matrigna e l'assunta a denti stretti non potendo disubbidire il figlio del re si misero a fare con malgarbo i preparativi per la partenza di Rosina finalmente arrivò la carrozza una di quelle carrozze all'antica tutte chiuse con solo un occhio in cima e con dietro un cacciatore tutto in fronzoli con le penne sul cappello e la spada penzoloni la Rosina entrò in carrozza e la matrigna monta con lei per tenerle compagnia ma prima di salire aveva preso da parte il cacciatore e gli aveva detto galantuomo se volete dieci paoli di manza aprite l'occhio della carrozza quando ci batte sopra il sole sì signora aveva risposto il cacciatore come lei comanda la carrozza correva correva e quando fu mezzogiorno e il sole ci batteva sopra a picco il cacciatore spalancò l'occhio e un raggio picchiò sulla testa della Rosina che subito si trasfigurò in una serpe e fuggì via fischiando per il bosco il figlio del re quando aperse la carrozza e non trovò Rosina e seppe quel che era successo il gomento e lacrimante stava per ammazzare la matrigna ma poi gli dissero e gli ripeterono che il destino della Rosina era quello che se non succedeva questa volta sarebbe successo un'altra e lui finì per rabbonirsi pur rimanendo del tutto triste e sconsolato intanto i cuochi avevano già tutta la roba nei forni e sui fornelli e sugli spiedi per il banchetto di nozze e gli invitati erano già tutti a tavola saputo che la sposa era scomparsa non di meno pensarono visto che ci siamo il banchetto facciamolo lo stesso e i cuochi ebbero ordine di scaldare il forno un cuoco stava mettendo dentro al forno acceso un fastello di stipa che gli avevano portato allora allora dal bosco quando vide che nel fastello c'era rimpiattata una serpe non fece in tempo arrivarla perché il fastello aveva già preso fuoco lui continuava a guardare nella bocca del forno per vedere la serpe ed ecco che dalle fiamme salta fuori una ragazza senza vesti fresca come una rosa splendente più del fuoco e del sole il cuoco restò come di sasso e cominciò a gridare correte correte mi è apparsa una fanciulla nel forno a quel grido il figlio del re si precipitò nella cucina e dietro di lui tutta la corte riconobbe rosina la prese tra le sue brazza e così si fecero le nozze e rosina visse da allora felice e contenta e senza più dispetti da nessuno grazie a tutti grazie a tutti